ciao a tutti ragazzi bentornati con un nuovissimo video allora il video di oggi sarà un unboxing video in collaborazione con stationary pal e con questa azienda ho già collaborato in precedenza vi lascio qua in alto la scheda per il video scorso mi hanno ricontattato chiedendomi un'ulteriore collaborazione e io sono stata super felicissima perché mi sono trovata bene e mi sto trovando bene con i loro prodotti che ho acquistato sul sito quindi detto questo direi di iniziare ad aprire il pacco allora per aprire questo pacco vado a prendere questo kit della legami perché all'interno di questo kit, sempre se riesco ad aprirlo, ci sono dentro le forbici allora vi posso assicurare quindi che i pacchi sono ben sigillati quindi non abbiate paura ad acquistare su questo sito pensando oddio ma se mi arrivano rotte le cose assolutamente no come potete notare c'è una cura c'è una cura pazzesca per l'impacchettamento ok ragazzi ce l'abbiamo fatta è stata dura comunque adesso apriremo assieme ok ragazzi allora all'interno troviamo il pacchetto così come al solito abbiamo anche il pluriball a forma di cuore che soddisfazione bene, aprendo io ormai sono tra virgolette esperta, so che ci sono in omaggio spilline e gommine come in questo caso sì, sono riuscita a sporcarmi da sola vabbè sono felice di queste spilline perché queste sono nuove e non le avevo trovate nell'altro pacco quindi sono super felice per ora ho trovato queste spille, guardate che belle che sono e le gommine queste dovrei già avercele quindi credo che siano un po' uguali, le gommine sono sempre le stesse ma noi apprezziamo lo stesso il pensiero insomma non dovrebbero più esserci, queste sono le gommine sì sì perché non ha senso se andrà non c'è ok ciao direi di togliere la paglietta come la chiamo io e di vedere cosa c'è all'interno allora la prima cosa che vedo eccola qua allora questa ragazzi ho deciso di prenderla perché ne ho già una però di un'altra colorazione per chi mi segue sul canale da tempo ormai saprà già di cosa parlo perché avrà già riconosciuto il logo e sto parlando di questa borsa, questa è una borsa e io ho già una borsa simile però in un'altra colorazione che è rosa questa borsa che è fatta in questo modo è super super comoda ragazzi io la sto usando tantissimo e l'avevo presa inizialmente per andare in università ovviamente avendo chiuso le università l'ho utilizzata principalmente per uscire e ragazzi ci sta dentro il mondo devo essere sincera non mi sembra di aver scelto questa colorazione però potrei anche sbagliarmi e infatti mi sbaglierò perché io ero convinta di aver scelto quella verde petrolio che ovviamente se andate a vedere sul sito vi lascio qua sotto il link troverete tutte le colorazioni però vabbè lo apprezzo stesso perché comunque il marrone mi piace come colore da indossare qua abbiamo i bigliettini da visita che ho trovato anche nell'altro pacco dove appunto qua c'è sia nome e cognome che la mia pagina instagram nonché canale youtube e poi il pezzo forte è tutto qua dentro wow ragazzi so che a livello estetico può sembrare un pack povero ma vi posso assicurare che a me invece piace tantissimo lo trovo super utile perché può essere riutilizzato essendo un sacchetto vedete per ritirare magari gli oggetti che non si utilizzano e quindi non sapete dove metterli quindi super approvato e come al solito ragazzi perché l'altra volta mi sembrava strano di aver preso tutti quegli stickers vi dicevo ho preso troppi stickers in realtà li mettono in omaggio molti e sono gli stessi che ho trovato la volta scorsa quindi questa cosa mi rende super felice perché voi sapete che io sono amante degli stickers e ho paura ad utilizzarli perché mi spiace utilizzarli perché poi finiscono però ho già i doppioni di quelle che mi piacevano quindi sono super felice di questo tra l'altro ragazzi guardate quanto sono belli curati nel minimo dettaglio tra l'altro mi fa piacere che comunque in qualsiasi pacco e non solo perché questa è una collaborazione ma so che in qualsiasi pacco mettono sempre poi altra cosa oddio questa è nuova carino questo è un sonaglio magari lo appendo si potrei appenderlo alla gabbia di polenta vediamo come reagisce poi al sonaglino altra cosa allora perfetto allora ragazzi adesso vi spiego questo è un calendario 2021 e l'avevo trovato anche nell'altro pacco vedete guardate è già qua aperto vi faccio vedere questo perché sarà uguale è fatto così e mentre aspettavo che mi arrivasse il pacco ero un po' diciamo pensierosa riguardo perché oltre a essere bello praticamente volevo rifare la scrivania insomma volevo riadobbarla e rifarla tutta quindi farò un setup della mia scrivania e volevo utilizzare questi e dato che adesso ho i doppioni posso tranquillamente farlo e quindi super felice di questo qua il pacco è finito direi ovviamente di andare a vedere assieme cosa c'è dentro questo bellissimo sacchetto allora questo sacchettino non è stato messo per puro caso nel senso non è che hanno deciso di inserire alcuni oggetti che io ho scelto all'interno di questo sacchetto ma si tratta di una box e molto probabilmente me l'hanno inviato qua dentro e non nella box di cartone perché se no veniva troppo grande il pacco e adesso vi faccio vedere cosa c'è dentro la box che ho scelto una box regalo quindi questa sarebbe un'idea super carina da fare per un regalo di compleanno piuttosto che da farsi fare per un regalo di compleanno o adesso vabbè è troppo tardi però sarebbe stata un'idea super carina da fare per Natale tra l'altro queste box regalo hanno quattro colorazioni diverse e ovviamente voi potrete capire tranquillamente che colore io abbia scelto ebbene sì ragazzi io ho scelto il rosa e non perché il rosa sia il mio colore preferito perché non lo è nel senso è un colore che mi piace ma non è il mio preferito ma bensì perché all'interno c'erano delle cose che mi incuriosivano molto più rispetto alle altre colorazioni di box che sono allora se non ricordo male c'è rosa viola quindi lilla in realtà azzurra e forse verde verde acqua questo verde qua per intenderci la prima cosa che mi salta all'occhio sono questi questi stickers barra post-it allora questi qua ebbene sì ragazzi li ho già presi nell'altra box quindi li ho di scorta e questa diciamo questa cosa mi rende super felice questi invece sono degli sticki memo da applicare principalmente sui libri o sui quaderni per studiare ma li potrò utilizzare anche per il bugio che per chi non lo sapesse è il bullet journal qua tra l'altro molto bella l'idea di metterci le colorazioni tra l'altro misty rose è anche il nome di una youtuber che seguo su youtube dopo gli stickers noto che ci sono queste penne allora prendo tutte le penne e ecco qua queste sono le penne che trovate all'interno due di queste le conosco benissimo che sono le sarasa e le pilot juicy che assieme sono le penne più famose sul web penne a gel super conosciute super utilizzate e apprezzate sono curiosa di provare la pilot juicy perché le sarasa le ho già prese la volta scorsa e quindi so perfettamente come sono e sono super approvate tra l'altro senza farla apposta ho lo smalto dello stesso colore della box che ho scelto fantastico e poi abbiamo la muji la muji ne ho una questa è la 0.5 mentre io avevo preso in negozio a milano la 0.38 che ha una punta piccolissima e finissima la 0.38 non mi sono trovata molto bene perché è fin troppo sottile questo l'avevo subito ad occhiato e volevo troppo provarlo perché è una brush pen apriamola assieme sembra molto interessante come brush pen sono proprio curiosa di provarla e tra l'altro non so se riuscite a notarlo ma il pack è rosa glitterato cioè è dello stesso rosa del mio smalto e non so se riuscite a vedere che anche il mio smalto è glitterato no forse non si riesce a vedere però questo è uguale al mio smalto quindi bellissima ah mi sono dimenticata di questa penna che per me è nuova cioè non l'avevo visto sul sito se no l'avrei presa ed è del marchio uniball 0.5 non so che colorazione sia se dal pack si possa pensare sia rosa in realtà è nera o blu sono molto curiosa di provare anche questa oh ragazzi brush pen della Tombow io non l'ho mai acquistati sono acquistabili se una persona già li usa ed è brava nel lettering quindi non come me che sono davvero principiante però sono sempre stata affascinata da chi le utilizzare sa utilizzare bene soprattutto anche per le colorazioni che mi sembrano molto molto belle e questa è di questo color rosa che mi ricorda molto un color malva sempre doppia doppia punta mi ricordano molto come pack le lira che sono queste invece queste le ho trovate in cartelleria e le ho voluto provare a prendere ma le avevo utilizzate principalmente come evidenziatore non come brush pen altra cosa che vedo è questo evidenziatore sempre della marca credo della stessa pena di prima perché c'è scritto uni vedete ed è un evidenziatore doppia punta come mild liner quindi punta che particolare è questa punta sembra che non abbia inchiostro e più che un pennarello mi ricorda molto un tratto pen ah ok questi evidenziatori sono molto simili a quelli della muji ovvero che hanno questa particolarità di essere trasparente al centro e quindi di lasciarvi vedere cosa state sottolineando altra cosa che c'è all'interno e questa già ce l'ho è la colla questa colla stick praticamente la utilizzo tantissimo per incollare foto o adesivi al bullet journal super comoda rispetto alla classica colla e mi ci sto trovando molto bene altra cosa che ho trovato all'interno è questo allora è un masking tape cutter credo che sia un taglierino per washi tapes come si vede qua dal disegnino sì praticamente viene inserito nel washi tapes e sì lo si usa per tagliare e tener fermo penso il segno di quando parte il washi tapes molto interessante sicuramente anche utile lo proverò più avanti washi tapes appunto allora ci si mi è svenuto il sacchettino allora come washi tapes ci sono questi qua tutti sulle colorazioni ovviamente del rosa essendo la box rosa questo è meraviglioso cioè guardate che bello con stelline e lune mi ricorda molto lo stile di super mario poi abbiamo questo qua a quadretti stile tovaglie da picnic questo rosa e questo qua invece con una sorta di galassia tutta sulle tonalità del rosa altra cosa che noi conosceremo benissimo è lo stabile boss color pastel che è questo qua praticamente stessa colorazione poi abbiamo gomma questa gomma qua con questa nuvoletta ostellina all'interno che è molto molto carina e devo provare a vedere come come cancella altra cosa e questa per me è super utile e oltre a essere super utile la trovo anche bella da vedere in questa colorazione sono le graffette e sono di questo oro rosa meraviglioso tra l'altro dentro questo porta graffette super comodo questo prodotto mi aveva incursito già l'altra volta però ho deciso di non acquistarlo perché avevo già troppi troppi astucci perché sì si tratta di un astuccio però un astuccio un po' particolare perché vabbè oltre a essere piccolo è anche da applicare su quaderni su agende su libri molto bello l'interno è così quindi ci sta dentro proprio l'essenziale che può essere una penna una matita una gommina piccola e è caratterizzato da questo elastico infatti ve lo faccio vedere con questo prodotto come va applicato vedete è da tenere praticamente così secondo me per chi va in università e non si vuole portare dietro tanto questo è sicuramente un ottimo prodotto e poi concludiamo in bellezza con questo bullet journal e questa colorazione rosa ovviamente dentro l'interno è fatto in questo modo quindi tutto puntinato come un classico bullet journal e la grandezza è una grandezza media direi e niente ragazzi questo è tutto quello che ho trovato all'interno della box di stationary pal che ringrazio ancora per questa ulteriore collaborazione spero che il video vi sia piaciuto fatemi sapere sotto nei commenti quali tra questi prodotti vi è piaciuto particolarmente tanto e se volete comunque acquistare su stationary pal vi lascio sempre sotto in descrizione il link di riferimento assieme al mio codice sconto che è ancora del 15% fino al 31 dicembre ve lo ricordo poi tornerà del 10 vi ricordo che inoltre sotto troverete anche il link per la mia pagina instagram e il mio tiktok e niente direi che ci vediamo con un prossimo video ciao ciao